Tre ore e mezza d'interrogatorio in cui Luigia Dolce ha risposto alle domande dei PM Sciarretta e Benigni. Potrebbero presto esserci nuovi sviluppi nell'inchiesta sugli appalti truccati della ASL di Pescara. La Dolce, che nella cooperativa Larondine di Lanciano ricopriva il ruolo di coordinatrice, nell'interrogatorio di garanzia si era limitata a confessare quanto contenuto nella misura cautelare disposta dal GIP Colantonio, riferendo sulle tangenti che il presidente della cooperativa, Domenico Mattucci, avrebbe consegnato a Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Psichiatrica della ASL, morto suicida in carcere il giorno stesso del suo arresto. Oggi però i PM hanno chiesto conto alla Dolce di quanto confessato da Mattucci la scorsa settimana, il quale da una parte ha tirato in ballo il direttore generale dell'azienda sanitaria Vincenzo Ciamponi, che ha prontamente smentito di aver ricevuto soldi, regali o promesse da Trotta. Dall'altra parte Mattucci ha aperto il filone politico dell'inchiesta. Trotta infatti, già candidato con Fratelli d'Italia alle scorse elezioni regionali, secondo Mattucci aveva in programma una scalata all'interno del partito e parte del denaro ricevuto avrebbe dovuto portarla a Roma. L'inchiesta quindi scavalca i confini regionali, arrivando fino ai palazzi della capitale. Si attende ora il risultato della perizia informatica sul cellulare di Trotta, che potrebbe fornire ulteriori elementi agli investigatori. Nel frattempo l'ASL, con una delibera firmata dallo stesso Ciamponi, ha annullato il contratto d'appalto incriminato da 11 milioni di euro.